finalmente sono libero e posso parlare in italiano adesso io non so come iniziare questo video perché è strano è strano è strano e sì lo so che state vedendo l'immagine del canale ma sinceramente non sapevo cosa mettervi avrei potuto mettervi non so non so un gameplay di formula 1 mentre parlavo ma non so mi sento di fare il video così insomma è strano si è strano perché sto letteralmente parlando in italiano quando ormai sono sempre abituato a parlare in inglese ma questo progetto è un progetto in cui credo perché diciamo che voglio esplorare nuovi giochi nuove avventure e sì mi prenderà tempo ma sono sicuro di di potercela fare di poterci mettere tutto l'impegno perché già a breve non so quando uscirà il primo video e non sarà un video di formula 1 o di minecraft come potete vedere perché quella che vedete nello schermo è la mia skin di minecraft e sì è molto particolare però diciamo che l'ho scelta quando avevo una cosa come 10 anni quindi capitemi e non lo voglio cambiare insomma ci sta come skin mi rappresenta anche se non sono nero però mi piace molto come skin ma non dilunghiamoci in argomenti che non c'entrano voglio parlarvi di cosa voglio portare sul canale come vi ho detto porterò come si capisce dal diciamo dal dal nome del canale porterò contenuti gaming ovviamente quindi gli edit vi lascerò al canale principale così come le live in inglese ragazzi non non farò live in italiano cioè live di formula 1 24 la carriera con hamilton quella rimangono sempre sulla sul canale principale mentre questo è un canale appunto italiano perché voglio diciamo sperimentare qualcosa vi dico solo che però dei giochi or quindi ci divertiremo insieme ed è proprio per questo che mi è venuta l'idea perché se essi reagito in inglese ragazzi cioè non era la mia vera reazione non lo sarebbe mai stata invece così mi sento mi sento fiducioso che posso avere le reazioni proprio che vengono da me non lo so mi piace l'idea mi piace l'idea mi piace mi piace insomma mi piace questa questo progetto che sto intraprendendo intraprendendo e sì beh sarà difficile perché diciamo che io editare sono molto lento soprattutto i video lunghi e mi richiederà un botto di tempo ma ragazzi va benissimo così cioè cercherò di non fare video troppo lunghi però se diciamo che vorrei portarvi magari qualcosina su minecraft e qualcosina su formula 1 sempre magari mi posto qualche giro che faccio trova tempo qualcosa del genere e per il resto per il resto credo che sia tutto qui questo canale sarà un canale diciamo per i fedelissimi del canale principale e poi spero ovviamente di prendere più più iscritti più fedeli a questo canale ma diciamo come di solito nei canali gaming penso che farò peggio 1 non faccio shorts quindi sarà molto difficile crescere e poi soprattutto diciamoci la verità questi canali sono sempre un fallimento tra virgolette per quelli che vogliono fare grossi numeri io non mi aspetto niente cioè sinceramente ragazzi so che per molto tempo rimarrò neanche ai 100 iscritti arriverò cioè quando arriverò a 100 iscritti sarà una grande cosa e però ragazzi va bene così va bene così perché mi divertirò mi divertirò magari troverò altri diciamo altri iscritti che saranno disposti magari fare qualche collaborazione in qualche gioco magari qualche multiplayer possiamo fare delle lobby magari posso fare delle live in italiano su formula 1 c'è da vedere c'è da vedere sicuramente le live non le posso fare subito perché mi servono i 50 iscritti ma per per quanto riguarda i video cercherò di pubblicarvi uno o due video alla settimana per iniziare perché ragazzi dico la verità è difficile anche dovrò tanto pensare a qualche contenuto tant'è che questo canale adesso per ora rimarrà un attimo in stand by perché devo pensare effettivamente a cosa portarvi come serie come stavo pensando magari di portarvi una carriera di formula 1 e di mettervela per intero come se fossero live però diciamo che non penso sia qualcosa di non lo so cioè mi va un po' in contraposizione con il canale principale visto che ho la carriera di Hamilton che voglio portare assolutamente avanti voglio arrivare almeno alla stagione 2 per la fine dell'estate e ragazzi credo che sia tutto qui spero di aver messo i sottotitoli in inglese dovrei averlo fatto così per chi volesse diciamo ascoltare questo progetto ascoltare un po' magari tipo persone come non so Alex Senna, Brands Magic che comunque so che di solito sono molto fedeli al mio canale diciamo che apprezzano i miei contenuti volevo insomma farvi capire anche a voi due se diciamo i progetti del mio canale e volevo farvi capire che cosa avrei fatto che questo canale sarebbe stato un canale in italiano e se siete interessati anche se magari non capite potete ogni tanto guardarvi qualche mio video per il resto ragazzi non mi voglio dilungare più di tanto come ho detto un video di più o meno però fuori di 7 minuti 7 minuti e mezzo e per questo video è tutto video trailer ve lo posterò anche sul primo canale molto probabilmente e beh da me è tutto bella ragazzi e Grazie a tutti.